Ciao Fede, non so se si vede Eccolo dobbiamo tra l'arrivo Vengono tibetano Eccolo Sta insello da qua Olè ha visto, ha visto, ha visto urmai siamo arrivati io ero così unito abbiamo fatto queste cose qua io ho una fame no vabbè, mangiate ma sei ancora riprendendo? no sì, va bene no, no, confermo erano diverse le marcelle eravamo dietro e quindi era più grande tre volte te l'ho detto ah ma dietro qua dietro è stupido ciao